...istituzionale per poi ritornare all'Aquila. Grazie. Tocca all'Aquila. Non è acqua, ma nulla cambia. A. A come appuntellare. Pazio, fontane. Armata d'oro. E ora, cosa ne resta? C'è che oggi per mettere, diciamo, costruire il consorzio dei proprietari, mettere d'accordo le persone, condividere, approvare i progetti, anche quella diventa una difficoltà. E' un'altra cosa che non è mai esistita, non è mai esistita una legge quadro su come si ripostruisce. In quella maniera bisogna farla in quell'altra. Si adottano modelli, a volte anche utilizzando...